La carne è più discount in questo momento? Sì, sì. Sono gli effetti della crisi? È evidente, la crisi allora per sparmiare un po', se no come facciamo? Bah, diciamo di sì. Un tempo di crisi? Un tempo di crisi. Dipende sempre dalla giornata. Sì, in generale i prodotti si scelgono più al discount? Eh sì, è una cosa naturale, no? Crollano i consumi nelle famiglie italiane. L'effetto della crisi colpisce i risormiatori che si fanno i conti in tasca e devono selezionare con più cura le spese da sostenere. Italiani e abruzzesi risparmiano in quantità e in qualità sul cibo, ma la spesa alimentare nel 2013 resta sostanzialmente stabile, passando da 468 a 461 euro al mese. Lo rileva l'Istat spiegando che a stringere di più la cinghia sono gli operai con un reddito più basso e le coppie con figli. Nel 2013 emerge dei dati, continua ad aumentare sia la quota di famiglie che ha ridotto la qualità o la quantità dei generi alimentari acquistati dal 62,3% del 2012 al 65% sia quelle di famiglia che si rivolge all'hard discount dal 12,3% al 14,4%, ma soprattutto a calare drasticamente è la spesa per la carne, meno 3,2%. Non mangio più, sono poca pasta, sono pasta asciutta tutti i giorni, spaghetti saltanti in patella e una femmina tutte le sere. Ci stiamo chiedendo se in un momento di crisi si guarda più alla qualità del prodotto e invece si va a vedere subito il prezzo. Lei cosa guarda? Va bene, io veramente tutte e due, perché se il prezzo è buono e la carne è buona la prendo dove costa di meno, però se dopo so che non è buona allora non me la mangio, sinceramente. Ma dipende, aggiornate, un po' l'uno e un po' l'altro. In un tempo di crisi si viene al discount? In un tempo di crisi ormai è all'ordine del giorno, tutti i giorni si parla sempre di crisi. Speriamo che la risolvano. Si scelgono i prodotti del discount? Certamente, noi dove c'è lo sconto, approfittiamo sempre. Se poi cerchiamo di, come si dice, giorno per giorno, come va la situazione. Scegliere alimenti sani è fondamentale per combattere e prevenire le malattie legate alla cattiva alimentazione, ma coloro che oggi prediligono ancora la qualità dei cibi sono pochi. Per la carne la qualità. Per i prodotti in generale invece? Per i prodotti, per esempio la carta, le cose, no. Però per la carne, per le cose principali, sì. L'Istat informa che poi non è solo la carne la più colpita dalla crisi. In calo anche la spesa per beni e servizi non alimentari, meno 2,7%, che si attesta su 1.898 euro mensili. Continuano a diminuire le spese per abbigliamento e calzature, meno 8,9%, quelle per tempo libero e cultura, meno 5,6%, e quelle per comunicazioni, meno 3,5%. Un'indagine dunque abbastanza chiara, che oltre ad allargare l'orizzonte dei problemi, deve portare a nuove soluzioni.